Vincenzo che ferragosto è? Ferragosto lontano dalla famiglia, un ferragosto proprio da ricordare, ma veramente da ricordare e non da dimenticare. Avete avuto un incontro anche col sindaco, ci sono delle novità? No niente, è venuto lui, ha parlato con noi, però ha ribadito sempre le stesse cose, ripetendo sempre le stesse cose. Naturalmente gli animi sono proprio agitate stamattina. Ci credo, oggi è il giorno di ferragosto, non potete stare con le famiglie, siete chiusi qui dentro nella sala consigliare e soprattutto forse dovete attendere ancora qualche giorno per avere qualche notizia. Beh, ci hanno avvisati i sindacati che domani mattina all'incirca verso le 11 sono stati convocati lì dall'avvocato della Crea, dove si discuterà proprio il nostro caso. Quanti giorni sono trascorsi, insomma, da quando avete occupato la sala consigliare? Ad oggi sono 12 giorni e 11 notti. Ma secondo voi questa vostra protesta, anche se è una protesta tranquilla, questa occupazione vi porterà ad avere i risultati che aspettate? Speriamo proprio di sì, speriamo proprio di sì. I sindacati che cosa faranno a questo incontro che si terrà domani mattina? Beh, ci hanno detto che vedono prima la discussione come va, poi ci faranno sapere cosa c'è scritto e poi ci diranno cosa fare, ma loro sanno già tutto cosa fare, quindi non penso che vanno a discapito nostro, no? È naturale questo. Scusami, ma c'è un accordo del 2016, è quello che sarà messo in campo? Speriamo di sì, perché qua lo vogliono eliminare proprio. Quell'accordo che hanno stipulato nel 2016 lo vogliono proprio eliminare, perché è quell'accordo che a noi ci porta al tempo indeterminato, perché noi abbiamo avuto già un'esperienza con Agrea, abbiamo avuto già cinque contratti con loro nell'arco del tempo stabilito della legge, quindi adesso lo vogliono dibellare perché altrimenti passeremo a tempo indeterminato. È quello che stiamo aspettando noi a braccia aperte. Però dobbiamo anche dire che non fanno altro che ribadire che il vostro impegno è importante per l'ACREA, anche la vostra professionalità per quanto riguarda la differenziata. Sì, sì, la nostra presenza in ACREA è molto importante, perché abbiamo avuto già delle esperienze precedentemente a questo, con la società fallita ACROS, che gestiva proprio i rifiuti della raccolta differenziata, quindi siamo già formati, abbiamo avuto già 15 anni di esperienza passati con l'ACROS, e quindi la nostra figura è importante, non perché siamo belli, oppure perché abbiamo esperienza sul lavoro e quindi sappiamo come svolgere la raccolta differenziata. Quindi voi siete qua, un giorno di ferragosto, domani è il 16, ci sarà questo incontro. Che cosa dobbiamo dire? Che speriamo che possa esserci finalmente un passo a favore vostro? Ebbè, speriamo di sì. Stiamo pregando tanto affinché questo giorno arriva e lo possiamo abbracciare insieme alle nostre famiglie. Grazie.